ciao ragazzi riccardo paolo caos in sforitalia e oggi abbiamo veramente un ospite incredibile forse uno degli ospiti più celebri che abbiamo avuto sul canale signore e signori sicuramente senza forse signore e signori gab torp no scusate 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 era l'altra scaletta non è vero abbiamo il mitico alessio cavatore grazie mille per essere qui stasera questo l'ho pensato da una settimana infatti era quello che temevamo l'ultima volta aveva deciso di non farla ma vedo che cazzo idea l'ultima volta gli ho detto non la faccio dai poi alla fine ho detto dai facciamola allora per prima cosa come detto grazie per essere qui come ti abbiamo detto siamo grandi fan di tutto il tuo lavoro di tutto quello che hai fatto in questi anni quindi ancora grazie alessio in diretta tutto 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 tutte le opere ce l'abbiamo tutta anche la anche la rattling gun quella soprattutto soprattutto la rattling gun io sono giocatore scaven quindi niente il buon alessio in diretta da nottingham dove vive e lavora perché gestisce la sua azienda che è la river horse game avremo modo di parlarne ampliamente e niente allora abbiamo deciso di procedere un po in questo modo facciamo un breve intro fatto da me da paolo e poi ti iniziamo a bombardare di domande proprio senza un soluzione di continuità tu paolo sei felice? eh direi che c'è il bendonde da essere felice voglio dire è veramente un onore questa possibilità quindi assolutamente ci sta siamo veramente tu sei emozionato per avere degli intervistatori così? diciamo che fa sempre piacere avere un massaggio dell'ego no voglio dire no quando ti fanno i complimenti eh che bello allora iniziamo col nostro intro per i pochissimi che non conoscessero alessio cavatore sul sul nostro canale i più giovani magari i più giovani esatto noi in realtà abbiamo già 34 anni quindi non siamo così giovani i vecchietti esatto allora alessio cavatore torinese orgoglio italiano è il più famoso game designer autore di giochi sviluppatore di giochi di wargame sicuramente italiano e anche internazionale uno dei più famosi a livello internazionale inizia come traduttore per games workshop a 25 anni ed in breve tempo diventa game developer e successivamente diventa autore principale partecipa quindi attivamente alla stesura di molte edizioni di warhammer fantasy battle sesta settima e ottava se non sbaglio giusto? no dovevo segnare non mi ricordo che edizioni ne avevo fatte erano quanti anni fa? venti venti sì più o meno sono vecchietto non mi ricordo i numeri delle edizioni sorry dopodiché ha fatto un numero pressoché infinito di army book d'armata soprattutto di sesta la quinta edizione di warhammer 40.000 in tutto questo nei vari anni crea letteralmente dal nullo il gioco del signore degli anelli che è ancora adesso una perla inarrivabile e un gioco come more dime assieme ovviamente a tuomas pirinin e warmaster tra l'altro dopo parleremo di more dime perché qua in italia c'è una canita fan base di more dime italia che tra l'altro si darà battaglia anche al milano war games che è una fiera del settore molto molto grande vai paolo quindi dopo queste due cosine che aveva fatto in games workshop partecipa altri due progetti piccolini che nessuno conosce uno è kings of war della mantic e l'altro è bolt action della world of games quindi due robine proprio per tempi del tempo esatto e nel 2010 correggisi se sbagliamo fonda la sua società che appunto come abbiamo detto prima è la river horse con cui ho già fatto numerose pubblicazioni come shuru, loka e alcuni giochi anche con proprietà intellettuali abbastanza pesanti come il gioco di hunger games, ombrella academy, terminator, pacific re e anche waterloo che è la fair fino ad arrivare all'ultimo uscito di cui abbiamo parlato dietro le quinte quando ci siamo sentiti precedentemente che è l'italianissimo noli di cui anche questo poi ti chiederemo approfondimenti assolutamente allora stasera come abbiamo detto pensavamo di fare una chiacchierata un po' in generale senza quindi entrare nell'aspetto tecnico di tutti i regolamenti anche perché sennò dovremmo star qua mesi e mesi e mesi di intervista e poi le risposte sarebbero tutte non mi ricordo esatto leggetelo e compra il mio manuale e niente quindi cercheremo un po' di ripercorrere passi fatti da Alessio sia dal punto di vista diciamo lavorativo che appunto dell'industria ludica chiaramente buona parte delle domande saranno del periodo games workshop perché è quello che c'è più caro anche proprio storicamente personalmente sarà una rattagliatrice una rattagliatrice di domande parlando di wargames è certo che bisogna parlare della games workshop esatto il buon Alessio dirà oh ma questi mi hanno invitato hanno parlato tutto loro per ora non mi hanno ancora fatto parlare un secondo adesso arriviamo allora abbiamo fatto un po' una cosa in stile marzullo non so se te lo ricordi quel giornalista che fa domande un po' filosofiche è una faccia direi non si ricorda non ho circa dunque io sono venuto a vivere in Inghilterra nel 96 quindi la televisione italiana non me la ricordo è un giornalista un po' strano che fa cose strane che intervista è familiare anche noi abbiamo diviso la tua carriera in 5 grandi momenti e li abbiamo nominati e adesso te li percorriamo diciamo alla scoperta e ti iniziamo a fare un po' di domande allora la fase 1 l'abbiamo chiamata Gli Inizi ovviamente tu sei nato a Torino nel 72 e a 25 anni come detto nel 95 decidi di trasferirti a Nottingham per lavorare alla Games Workshop come traduttore per la divisione italiana prima domanda partiamo dagli inizi proprio dagli albori anche quando eri in Italia come ti sei avvicinato al mondo dei wargames e a cosa giocavi prima ancora di diventare un addetto ai lavori? sì una domanda che mi dà modo di parlare dell'infanzia nel senso che forse destino ha voluto che fossi un sempre stato fin da bambino proprio giovanissimo un appassionato di soldatini stiamo parlando di soldatini di plastica quelli nelle buste che compravi in spiaggia a Noli appunto l'inizio forse è stato quei soldatini abbastanza grossi che metti in spiaggia e le regole erano si faceva il castello di sabbia si mettevano i soldatini in posizione poi io mi sedevo dietro il mio castello tu ti sedevi dietro il tuo forte e ci tiravamo le pietruzze e quando colpiscono il muro esplodono fanno questi bellissimi getti di sabbia le miniature cadono e così si faceva cercava di eliminare tutte le miniature dell'avversario questo è il primo elemento di wargame che un giorno voglio assolutamente fare ah io lo comprare un gioco così lo comprare subito eh ma ci abbiamo pensato sul serio solo che uno dei problemi grossi è la health and safety nel senso che una volta che uno si tira qualcosa o spara qualcosa si tira via un occhio tu hai non è proprio un po' difficile no però ci sono stati giochi un po' così di dexterity come non so crossbow catapult quello che è il catapult col castello cose così esistono quindi è rimasto un sogno nel cassetto che magari un giorno proveremo veramente a fare un wargame siamo così subito con uno spoiler fuori dal nulla un sogno nel cassetto comunque quindi questa fase dei soldatini poi è diventata un po' più seria nel senso che mi sono sono passato alla ESCI alla Airfix a comprare soldatini in scala H0 li mettevo fortunatamente a casa nella mia cameretta avevo il palchetto a quadratini a scacchi diciamo a motivo scacchiera e quindi avevo un tavolo da gioco sul pavimento schieravo enormi armate di soldatini usavo regole che erano derivate praticamente da una serie di libri inglesi che erano tradotti in italiano per ragazzi si chiamava Battle Games di Andrew McNeil se volete dovrei avere è ancora live questa è una cosa attenzione ce li ho anche qui allora non vorrei se li ho lasciati in Italia erano quelli che dicevi che avevi fotocopiato giusto era fatto così c'erano adesso li ho visti adesso li prendo secondo me tolgo questo se no strappo mentre vado attenzione momento momento live sorpresa live in attesa questo era inaspettato signori esatto col piscera non era previsto in scaletta tutta improvvisazione ho sentito una catastrofe lì dietro vabbè anni e anni di libri pubblicazioni tutti per terra in un minuto dunque questi libri per esempio questo i cavalieri medievali per un ragazzino non so quanti anni avrò avuto una decina una cosa così comunque avevano un po' di storia tu aprivi e c'erano queste illustrazioni bellissime dove ti spiegherà questa è una morning star questa è la stella del mattino lo spadone definizioni varie poi un po' di storia sui cavalieri medievali anzi cominciava addirittura penso da cavalleria nella storia a partire dai romani arrivare poi ai sassoni fantastico battaglia di Hastings crociate quindi ogni ogni doppia pagina aveva un tema questa sui castelli che io trovavo fantastica immaginati da bambino questa cosa fantastico non c'era internet no ai tempi quindi no infatti i vari i vari peramenti del cavaliere con lo studiero che lo veste e poi la raldica ci aveva le regole della raldica dopodiché qui in mezzo e purtroppo allora sul declino dei cavalieri dovuto a picche e armi da fuoco si arrivava alla parte centrale del libro dove iniziavano le regole c'erano quattro pagine di cartone con quattro regolamenti quattro giochi in questo caso Arsuf quindi una battaglia nelle crociate l'assedio poi continuavi a girare e dentro c'erano le pedine le pedine per giocare ai vari giochi quindi il torneo incursione di confine Arsuf e l'assedio tu fotocopiavi queste cose e qui diceva che si fotocopiavano perché ovviamente bisognava fotocopiarli una sfida di barletta e poi continuando a sfogliare c'erano le altre regole per gli altri giochi e si arrivava alla parte delle battaglie dove battaglia di Arsuf storica battaglia di Arsuf esagonata e quindi qui sono le pedine di giocabile praticamente era l'equivalente wargamistico di un libro game esatto l'albore del libro game guarda questo fantastico cioè una cosa incredibile quindi io questi libri qui ho fatto una grossa collezione questa poi li ho comprati in inglese quando sono venuto in Inghilterra c'erano diversi temi Galactic War questa cosa è stupenda e poi c'era eccezionale questo che fosse un preambolo di bolt action seconda guerra mondiale così quindi con queste regole qui che sono una pagina di regole quindi semplicine io le ho estrapolate e ho adattate al pavimento della mia cameretta quindi facevo le battaglie lì o Napoleoni che ho seconda guerra mondiale direi perché quelli erano i soldatini più quindi quando hai pensato a Waterloo ti sei basato su questi librogame è nata così la passione per il soldatino queste enormi armate sul pavimento della speriamo di centinaia di soldatini sul pavimento della Sanza che quando poi entrava il gatto c'era una devastazione di armate niente è cominciata così poi D&D un'età più avanzata 13 anni giù di lì e poi un giorno mi sono spaccato il femore facendo l'idiota sparandomi con il laser con i miei amici in un parco e purtroppo mi sono spaccato il femore o per fortuna mi sono spaccato il femore e ho dovuto smettere di fare kendo sto facendo kendo a un livello anche abbastanza decente e sono finito in un club a Torino di giochi la Kenaton dove per andare a giocare giochi di ruolo però scendendo vedo questi due che giocano un tavolo con questo esercito di uomini ratto contro un esercito di imperiali lanziacenecchi e sono rimasto così cos'è è bellissimo cos'è e c'era stavamo giocando a scave incontro impero penso fosse dunque l'edizione è quella con con gli elfi alti e i goblin nella scatola quindi la prima nella scatola quella edizione della terza ok isola di sangue può essere no no prima dopo sarà la quarta penso che sia la quarta edizione guarda forse la terza era ancora un libro quindi la quarta è la prima con la scatola questa forse è la quinta giusto quella dovrebbe essere quella con i bretoniani e i lisman quindi sarà la quinta ok quella prima allora i libri erano ancora in bianco e nero cioè le copertine erano a colori ma l'interno era in bianco e nero e cominciato ho scoperto Warhammer ho mandato un amico che andava a fare un giro a Londra e gli ho detto devi andare in questo negozio devi comprarmi queste cose e mi ha comprato un esercito di scaven campana stridente subito ovviamente ma in realtà era la Doomwheel che è il primo pezzo che abbia mai dipinto e anche l'ultimo pezzo che abbia mai dipinto ho scoperto che dipingere proprio non è per me giocare sì dipingere no bene adesso su Games Workshop ti serriamo bene a livello di domande quindi come avete notato scusate parlavo poco adesso avrete capito che invece non mi fermo più meglio meglio tanto non c'è problema meglio meglio facciamo una maratona beh quindi abbiamo il primo punto di contatto con Games Workshop e quindi facciamo un fast forward e come sei invece arrivato alla decisione quindi di trasferirti a Nottingham e come sei entrato a far parte della famiglia Games Workshop sì nel 95 mi sembra 5-5 Wikipedia dice 5 non so c'è scritto nel 5 ci fidiamo ho vinto il campionato italiano di Warhammer che ovviamente ai tempi era una cosa piccola cioè in quantità di giocatori cioè non era una cosa grossa però comunque a canita con della gente spessa è molto competitiva come dobbiamo immaginare sono riuscito invece da neofita così ragazzino a battere questi grossi baroni del gioco eccetera e insomma ho vinto con gli scaven e nel 95 il che vuol dire che poi nel 96 quando difendevo il titolo è venuto giù Gian Paul Brzeigotti che era il capo della Games Workshop Italia ai tempi perché stavano reclutando dei traduttori per fare l'edizione italiana dei giochi e io ero lì come campione poi uscente perché ho perso il titolo l'anno dopo però comunque mi ha dato occasione di incontrarlo di parlargli in inglese ha visto che l'inglese era decente ai livelli accettabili per il lavoro in questione e mi ha proposto di andare a lavorare mi ha offerto un lavoro lì per lì e io veramente quarto anno di biologia ero cinque anni di biologia ai tempi e faccio ma veramente mi vado dai miei ovviamente se io andassi in Inghilterra all'università che ne abbiamo pagato fino adesso la finisco poi se vanno male le cose la finisca insomma mio padre e soprattutto mia madre è stata quella che l'ha convinto è chiaro perché poi a quell'età lì al fondo se proprio al massimo te ne vai però non volevano fare le cose brutte volevano fare le cose in modo diciamo consensuale e quindi l'idea era parti vai prova se poi va male torni qui finisci la città e avanti come prima invece no è andata bene sono andato su con la mia macchinina con la 500 ok in macchina non c'era neanche ancora il tunnel figurati quindi parlando i primordi non c'erano i cellulari quindi arrivi qui e dici devo trovare un telefono certo che non era quello che mi aspetta un altro mondo comunque sì ho fatto traduttore per qualche anno il resto poi beh hai perso il titolo e hai vinto un lavoro non male esatto come scambio direi sì ho anche finito l'università poi qui ah ecco poi è finito qui c'è la Open University qui in Inghilterra che praticamente è l'università per quelli che lavorano cioè fai gli esami nei weekend studi dopo il lavoro cioè tu studi quando devi studiare vai a fare ogni tanto dei laboratori cioè ti devi ogni tanto girare un po' così fai periodi ti arrangi in qualche modo dai gli esami e così anche perché mi hanno riconosciuto molto al tipo l'80% degli esami per via degli esami che ho dato in Italia perché ero senza la fine dell'ambiologico e così sono riuscito poi a finire anche questa cosa quindi ho anche il pezzettino di carta che ho dire eh ho finito vedi così la mamma era contenta dai è stato fatto allora io rivoluziono già la scaletta quindi Paolo adesso mi maledirà perché noi abbiamo delle domande precise adesso ci incasineremo oh sorry no ho indirettamente già risposto a questa com'era l'ambiente in Games Workshop all'inizio beh per uno come me che avevo letto quei libri di Scaveni di Chambers visto queste queste foto di questi personaggi mitici Rick Priestley eccetera eccetera per chi non conoscesse arrivare lì e essere in questo mondo dove tutto quello che era per noi un hobby lontano e così c'era tutto tutto lì mi ha fatto fare Rick Priestley mi ha dato il benvenuto mi ha fatto fare il giro dello studio cioè era un po' come dire in tanta roba è è stato bellissimo sicuramente l'inizio è stato se vuoi duro andare a vivere in un paese che non conosci dove non conosci nessuno ovviamente non è una cosa facile però fortunatamente la mia collaborativa era fantastico nel senso che ho lavorato con sostanzialmente tanti di quei games designer che conoscevo solo per nome ma in dicembre soprattutto è Jervis Johnson Rick Priestley Gavin Thorpe Tuoma Spirin di sicuro Nigel Stillman però devo dire che le due figure che io dico sempre sono uno è il mio sensei e l'altro è il mio senpai quindi il sensei maestro per me è Rick Priestley quello che mi ha insegnato secondo me di più di tutti il senpai è Jervis che siamo un po' so entrambe le persone sono delle persone fantastiche non solo come game designer ma come esseri umani come uomini sono dei very gentlemen che mi hanno insegnato che è la cosa più importante alla fine mi hanno insegnato non solo a essere game designer ma mi hanno insegnato ad essere un gentleman e quindi no quelle sono le due figure forse più ma anche Tuomas comunque è stata una figura molto importante quindi va bene ma anche a livello personale era comunque una cosa abbastanza impegnativa c'è stato un qualche momento in cui hai pensato basta non ce la faccio più torno a casa diciamo che all'inizio come sapete ho iniziato dello studio italiano lo studio di Dragon's Workshop Italia che era in Inghilterra in Nottingham prima che poi si trasferisse in Italia diciamo che c'è stato un po' di maretta interna classicamente italiana dove ci pugnalavamo alle spalle per fare carriera e cose del genere ci sono stati dei momenti un po' tesi così che poi non è solo l'italiano effettivamente succede in tutto il mondo però in quel momento per me era il c'è stata un po' di battaglia lì fortunatamente o sfortunatamente chi lo sa mi hanno fatto un'offerta invece di fare il game designer nello studio inglese perché gli rompevo le palle tutti i giorni con le traduzioni ma questa regola sarebbe spiegare se la scrivessi così e mi hanno offerto un lavoro come game developer quindi ho abbandonato la game designer in Italia per passare io mi metto con una domanda da determinate interviste leggevo una cosa molto divertente che tu quando avevi un dubbio cioè oggi viviamo nel mondo di internet che ci mandiamo delle fredde email noi ci sentiamo per schermi tu avevi un dubbio sulla traduzione e andavi direttamente su a farti spiegare le cose dicelo tu così almeno è sì sì era il vantaggio appunto quando fai la traduzione hai l'autore seduto al piano sopra o lì di fianco e vai lì e gli dici scusa ma qui cosa volevi dire perché non sei invece da scrivere e molte volte causavi poi il fatto che la regola inglese veniva modificata in base al tuo feedback come traduttore no pensavo che la cosa buffa che la cui ti riferivi invece è una cosa una storia fantastica pre-internet siamo qui per ascoltare quando giocavo quando giocavo in Italia cattivo per i tornei eccetera eccetera dove non si parlava di giocare ci parlava di allenarsi il club era tutto molto cattivo c'era un cannone organo dei nani che sparava cinque cannonate quindi c'era un discorso ma le cannonate vanno tutte sulla stessa fila e quindi o va una per fila questi discorsi così e litigate pazzesche tra il giocatore scaven e il giocatore dei nani voleva obliterarmi le unità io no no vanno tutte sullo stesso eccetera comunque discussione così ho detto basta chiediamo chiedo ai rules boys perché su white dwarf c'era la cosa l'indirizzo dove mandavi la lettera e ti rispondevano ma la domanda ma il cannone organo funziona così col piccolo qualche settimana dopo mi arriva la lettera stampa col timbro timbro scusate ogni tanto l'italiano col timbro dei rules boys che fa la risposta ufficiale se la domanda era è A o B loro mi rispondono la risposta ufficiale è B qui timbrato figo vado a fare la partita col mio avversario dei nani storico giochiamo lui fa spero qui là e faccio aspetta scusa guarda apro la borsa con l'aria tutto figo e gli faccio su un papiro rarissimo di rules boys mi ha la risposta così guarda e fa scusa un attimo prende nella sua borsa no tira fuori tira fuori un altro pezzo di carta uguale timbrato così dove la risposta è A fantastico questa è una perla ci guardiamo ok iniziamo non sanno di cosa parlano neanche loro bene bene ok e degli hai capito che potevi fare carriera effettivamente forse lì l'ho interpretato in quel senso oh sì sicuramente vado io e metto tutto a posto invece in realtà quello che ho capito che regole all'interpretazione è difficile che siano watertight come dicono certo dopo quanto che hai iniziato a fare il traduttore ti hanno offerto di fare il game designer un anno e mezzo quindi poco sì più di un anno meno di due qualcosa del genere ok mi sembra non vorrei sbagliarmi ma è stata sì abbastanza in fretta sì 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 allora passiamo alla fase numero due quindi gli anni proprio in games workshop più urgenti anni in games workshop più o meno dal 2004 2005 Alessio diventa autore sviluppatore e viene fatto responsabile di tutto il materiale games workshop a livello di regole e di pubblicazioni quindi tutto quello che usciva dalla casa madre aveva un po' il tuo stampino possiamo dirlo dai sì diciamo che quella è la fine della carriera se vuoi nel senso che prima ho fatto il game designer su Warhammer poi su Warhammer 40 cioè ho fatto tanti armi list articoli eccetera che è la gavetta se vuoi per arrivare poi alla fine a un certo punto mi hanno dato la nuova edizione la settima che numero era la settima la nuova edizione rifacciamo il regolamento rileggiamo cambiamenti bla 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 dirigi tu minchia ok quindi grazie a responsabilità faccio Warhammer sono contenti dopo un po' comincio a fare armi list di 40.000 mi fanno vuoi fare la nuova edizione di 40.000 come il lead game designer assolutamente quindi faccio quello finito quello Signore degli Anelli di nuovo c'è questo nuovo prodotto se ti interessa Signore degli Anelli parentesi ve lo dico spesso io non sono religioso ok la cosa che ho più vicina a una religione nella mia vita è Tolkien nel senso ho delle mappe hai mantenuto assolutamente il sangue freddo quando te l'hanno proposta assolutamente una faccia da poker totale assolutamente quindi ho le mappe che avevo sulla scanneretta nelle green messe in quadro e la scanneretta me le sono portate sono qui nella mia sala sotto nel salone cioè Tolkien ha Tolkien ha no così poi come sapete ho avuto una bella esperienza dopo avendo lavorato su questo gioco quindi abbiamo un altro repertorio Alessio che spiega il gioco del Signore degli Anelli quanti capelli però stavano cominciando ad andare anche lì e dai e e sì quindi fatto il Signore degli Anelli varie edizioni del Signore degli Anelli poi alla fine si arriva al punto della carriera dove dicevo ho fatto tutto cosa facciamo a quel punto abbiamo cominciato a divergere come direzioni però sì ho passato almeno un anno come quello che dicevi tu cioè di essere quello che era il responsabile per tutte le regole cioè la parte regolistica di tutti i sistemi quindi l'editor se vuoi il rules editor penso fosse il titolo o qualcosa del genere tra l'altro è fantastico questo è stato a Hobbiton in Nuova Zelanda ed è uno dei posti più mistici perché anche io adoro Il Signore degli Anelli è uno dei posti più mistici della Terra secondo me qualcosa di eccezionale allora indirettamente già risposto sviluppatore della sesta con molti army book scritti autore principale con Gav Torp della settima io non mi ricordo l'ottava forse avevi partecipato all'inizio partecipato sì 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 ok avevo collaborato chi era Matt Ward penso di sì esatto io ero già rules editor penso a quel punto ok ci ho lavorato ma non ero Paolo oramai ci sono tutti scambiati le domande fai una domanda sì ormai è da tutto ormai immagino tra l'altro questa ormai è il risposto tra i tre quindi deduco che quello che ti sta più a cuore sia il Signore degli Anelli dei tre sistemi come background come storia sì chiaro però se vuoi come gioco mi piace molto 40.000 come l'ambientazione non Signore degli Anelli quindi non religiosa ma diciamo divertente fantasy comunque l'ambientazione di Warhammer l'ho sempre trovata molto divertente il vecchio mondo eccetera quindi tutti e tre hanno un valore affettivo diverso tutti e tre hanno delle storie belle mi sono fatto i bretoniani i savoiardi con gli studi col toro giallo in campo blu tutta l'armata con quel tema lì perché tu sei tifoso del Torino o della Juve fortunatamente sì sono un torinista oltre che torinese e qui tutti gli juventini hanno spento in questo momento sono andato per soffrire no no ma no gli juventini sono di classe superiore siamo noi torinisti che abbiamo il complesso di inferiorità siamo cattivi loro ma sì il Toro non mi vedo cattivi contro il Toro normalmente sono troppo superiori comunque cambiamo tipico discorso italiano adesso inizieremo a gesticolare anche esatto comunque parlando di Torino ho fatto un esercito di Space Marine le Crimson Furies le Furie Granata che è di nuovo amaranto con lo spallaccio con il Toro rampante bianco insomma delle cose buffe che si fanno eccezionale allora io ti chiederei vabbè ci hai già risposto un po' indirettamente però il game designer con cui ti è piaciuto lavorare di più quello con idee più brillanti e quello con cui avresti avresti voluto lavorare ancora di più successivamente qui tre che ho nominato li nomino di nuovo direi che Rick Priestley per me la persona qui c'è una persona di una cultura di una vastità che io mi sento un ignorante pazzesco ogni volta che parlo con Rick e poi questa sua esperienza nel mondo dei giochi quando di nuovo io gli faccio ma ho un'idea potremmo fare così e così e così lui fa sì quell'idea è stata approvata nel 1973 in questo gioco qui così e così e non funziona perché funziona così come funziona tu magari avevi pensato tutta la notte a questa cosa è geniale è geniale quindi è originale così bellissima quindi Rick sicuramente è un genio come scrive lui le cose c'è un senso dell'umorismo tagliente bellissimo un modo di scrivere fantastico leggere i suoi regolamenti è un piacere solo leggerli non so se avete letto Black Powder ma è una cosa è bellissimo il primo modo in cui scrive Gervis che è un po' più forse un po' più come me un po' più analitico un po' più più sulle regole che sul background eccetera quindi meno se vuoi meno artistico e più scientifico come approccio e che a Dima mi ha insegnato tante cose sul non so il principio del rasoio di Gervis di Ockham dove dice devi semplificare solo quando hai finito di togliere hai finito il prodotto non quando hai finito di aggiungere cose così questi mantra di design e invece poi Tuomas Tuomas Pieren è un finnico duro proprio di quelli lui è finlandese giusto? finlandese in tutti i sensi molto molto forte una personalità fortissima e forse di nuovo da lui ho imparato questa dedizione pazzesca questo ho imparato anche quando sia importante la sicurezza perché dimostrare sicurezza quando lavori in ambiente lavorativo eccetera di nuovo è fondamentale ho visto delle cose quel valore della leadership se vuoi da lui quindi no da tutti questi comunque ma anche da Indy Chambers che è un torpo imparato da questa gente però secondo me quei tre lì sono forse quelli che nominerei come i miei favoriti con cui sono fortunato lavoro ancora lavoro con Rick alla Warlord lavoro con Gervis ci sarà un'intervista dove io e Gervis parleremo di game design questo venerdì prossimo nel live stream della River Horse abbiamo invitato Gervis e parleremo del suo ultimo sistema di regole per Wargame Valor and Fortitude che fa insieme ai perri che sono fortunatamente dei grandi amici miei vado a giocare nonché attori e dopo ne parleremo dopo ne parliamo quindi entra lì ok quindi invece a livello di complessità di sistema di quelli su cui hai lavorato nel periodo Games Workshop ce n'è uno dei tre che è stato particolarmente ostico su cui lavorare direi che sono tutti in un certo senso semplicissimo hai della responsabilità della il peso della robetta no il peso della responsabilità è quella cosa grossa non penso che sia uno più ostico di altri in senso che hanno tutti dei pro e dei contro ma la responsabilità che uno si sente addosso quando fai delle decisioni che dici ma cosa succederà nel mondo quando fai questa cosa è snervante quello allora io ti faccio una domanda molto più frivola allora parlando di armi bucche di eserciti di Warhammer di quegli anni praticamente tantissimi libri come abbiamo detto hanno avuto il tuo contributo il tuo lavoro qual è la razza di Warhammer fantasy che ti è rimasta più nel cuore quale odiavi di più e perché e cosa hai iniziato a collezionare quindi ti faccio due domande assieme vai allora ovviamente gli scaven sono quelli che mi sono sempre piaciuti di più mi piacciono sia dal punto di vista dell'essere buffi ma mi piacciono anche io ho anche questo presentazione dell'armata di sesta eccoli la sì quindi gli scaven è l'armata preferita comunque mi piacciono anche molto i bretoniani perché comunque il discorso della cavalleria della chivalry mi piace molto quindi tutti i cicli arturiani il mio preferito prima è Excalibur e quindi sono un fan quindi i bretoniani di sicuro avevano anche un esercito di W-Death mi piacevano anche i W-Death questi sono i favoriti quelli che ho di più sicuramente gli orchi nel senso che non ho mai capito l'umorismo degli orchi non mi hanno mai fatto ridere ma dei Goblin sì se vuoi forse un po' di più ma quell'esercito lì in generale mi piacevano di più forse gli orchi un po' più tetri tipo Signora degli Anelli più maligni non buffi tu sei stato anche un grandissimo autore dei Conti Vampiro il primo esercito il primo esercito ah è stato il tuo primo esercito i Conti Vampiro è stato il mio primo lavoro sono sono salito dall'italiano al piano sopra che c'era lo studio e su inglese entro la mia scrivania mi fanno ah già inizi oggi non ci siamo dimenticati prendi quella sedia prendi questo taccuino scrivimi regole speciali per tutte le famiglie queste quattro famiglie di vampiri le linee di sangue allora mi ricordo ancora le due doppie pagine adesso non mi ricordo che armi bocchera forse di settima o forse di tu di sesta in cui c'era sesta in cui c'era queste due doppie pagine con le quattro linee di sangue con un personaggio per pagina che puntava o una spada o un bastone in mezzo creava questo arco con le regole in mezzo tutto in bianco e nero molto gothic come art io ho un'ultimissima cosa da far vedere probabilmente quelle regole lì se è la prima cosa che ho scritto come game designer seduto sulla sedia col taccuino chiunque faccia i soul blight in age of sigma dovrebbe andarsi a rivedere le regole delle famiglie vampiriche originali di warhammer che è poesia in confronto a quello che si usa io qua ho l'arena della non morte che è una sorta di torneo che ha fatto Alessio assieme a oddio adesso non mi ricordo non mi ricordo Mark Anthony Alessio e Gabe ok quindi sono loro che praticamente hanno fatto questo torneo con tutte le quattro le linee di sangue e praticamente non so chi abbia vinto perché no le linee di sangue vincente Lamie e alla fine ha vinto la Lamia è stato un torneo impressionante wow non me lo ricordavo assolutamente hai visto? ho visto? ti portiamo anche alla luce quanti anni fa? questo è un white darf 5 allora il prezzo è ancora in lire quindi prima del 2000 penso della costa ah maggio 2000 2001 pardon maggio 2001 21 anni fa 21 anni fa addio prego Paolo allora beh direi che abbiamo sfruttato abbastanza bene la parte dei tre sistemi classici ti rubo una domanda a questo punto Riccardo visto che te l'abbiamo parlato anche prima come ti è venuta in mente la pubblicazione di Mordheim che è di cui abbiamo che è un gioco tra l'altro che sta rivivendo un po' una nuova primavera nel senso che abbiamo assistito anche l'anno scorso all'evento di cui parlavamo prima la Milano War Games dove c'è stato un torneo con degli elementi stupendi delle specie di giganteschi diorama dove giocavano a Mordheim e l'idea iniziale di questa città colpita da una meteora è non è mia mettiamo subito le mani avanti non è un'idea mia Mordheim è sicuramente figlia di Tuomas Pyrin Tuomas Pyrin è l'ideatore il disegnatore principale il game designer principale io ho collaborato nel senso che lui era il lead designer di quel progetto ma siccome lui era a quel tempo anche il mio capo direttore dall'inizio io ho iniziato a lavorare proprio per Tuomas quando sono andato al game design lui mi ha preso appunto mi ha detto allora vuoi fare uno di queste warbands quale ti piacerebbe fare Skaven non a caso ovviamente e quindi ho cominciato a lavorare su quello però sicuramente non posso dire che Bordheim sia un'idea mia sarebbe assolutamente una bambata ci ho lavorato è stato bellissimo divertente ho imparato tantissimo però Tuomas è il vero cuore e autore tra l'altro come stavamo dicendo ci sarà la novembre qua la Milano World Games che è questa fiera molto molto grande la più grande in Italia e quest'anno penso sia uno dei tornei più grandi di Europa di Mordheim che c'è questa community Mordheim Italia quindi se vuoi venire a fare un giro a novembre ti aspettiamo noi siamo media partner con il Giallo da un paio d'anni vieni pure quando vuoi andiamo a giallo una cassola un risotto con lo suo buco delle nostre zone noi siamo tra Milano e Varese c'è la Polente e Brucitte ma parliamone parliamone effettivamente quando vedete novembre novembre fine novembre fine novembre spesso vengo vengo giù a trovare il vecchio babbo verso Natale eccetera però chissà vediamo lasciamo un alone di mistero ci sarà una carabata esatto il 27 novembre per essere sicuri per essere precisi potrò trovare un calendario vedi tu se vuoi tornare a fare un giro io invece ti faccio un'altra domanda abbiamo parlato del Signore degli Anelli della tua passione del gioco che comunque hai sviluppato e tutto addirittura hai avuto la possibilità di recitare nel film sei stato un soldato di Rowan praticamente come è stata come te l'hanno proposto è stato difficile recitare non so allora recitare è una parola grossa non so se sai la parte che abbiamo fatto io e i Terry ah ma tu non eri Aragon ah allora mi sono sbagliato era il suo doppio no quando ci hanno offerto di fare gli extra fare le comparsa una cosa fantastica perché ce l'ha detto eravamo in Nuova Zelanda per lavorare con Peter Jackson tra la seconda edizione del Signore degli Anelli e lui fa ma sto per fare ancora qualche scena da mettere nel Ritorno del Re perché era tra le due torri del Signore del Re ma se vi fermate ancora due settimane quando cominciamo a filmare poi vi ci metto come ci fermiamo due settimane non possiamo stare due settimane qui la famiglia l'ufficio però se ci metto se ci prometti che ci metti noi torniamo in Inghilterra e poi torniamo qui tra due settimane lui fa eh sì io ci credo che voi viaggiate fate 24 ore di aereo e poi tornate a farvi 24 ore di aereo assolutamente sì a nostre spese non ce ne frega un cazzo assolutamente e quindi sì siamo tornati e abbiamo fatto il Cavaliere di Roam morti sì perché mi ricordo la scena che tu sei tipo così il nostro ruolo di fare i morti è più difficile di quel che pensassi di fare i morti devo dire perché è stare fermi nella stessa posizione perché non puoi muoverti perché ovviamente lo filmano otto volte la stessa scena e quindi non puoi che il cadavere si è mosso dall'altra quindi stai fermo per terra nel fango con l'acqua dell'amazonante che ti penetra nella schiena attraverso il costume con la tipa che mette le frecce ti spruzza il sangue in faccia per così eccetera quando filmano poi ti dicono smetti di sorridere e io ero così ah che bello smetti di sorridere sei morto di morte violenta fare il morto cioè l'espressione da morto e stare fermi mentre questi filmano ti vengono tutte queste cose le paresi alla fascia e dici ma ho mosso l'occhio forse no devo tenere l'occhio aperto o l'occhio chiuso perché il morto vero è a occhio aperto in capo di battaglia non c'è la gente che viene a chiudere gli occhi però è difficile stare fermo con gli occhi così aperti senza cambiare espressione allora faccio il morto con gli occhi chiusi che è molto più facile tutte queste cose che normalmente non comunque bellissima un'esperienza incredibile ti hanno richiamato a recitare in altri film a recitare da morto no però scena c'è delle esperienze che tu sei lì fa pausa andate pure a farvi il caffè entri nelle cose del caffè stai facendo il tuo caffè istantaneo fredolito così entra Aragon lui in Vico Morto è di fianco a te con il costume da re che comincia a fare il caffè fa passa lo zucchero si al tezzo con il cuscino regale è bello ok cosa facciamo Paolo periodo Games Workshop altre cose da dire allora in realtà abbiamo una domanda su Warmaster che è un altro sistema a cui hai lavorato e che in realtà probabilmente forse è uno dei meno conosciuti dell'epoca d'oro di Games Workshop io personalmente ne so ne so molto poco e niente se volevi dici due parole al volo su questo sistema Warmaster è un gioco che mi è piaciuto molto ci ho lavorato perché avevo lavorato insieme a Rick su Signore degli Anelli mi pare cosa Signore degli Anelli comunque avevo lavorato su Rick un progettone che penso sia quello ma comunque Rick mi ha detto eh guarda mi piacerebbe sto scrivendo questo sistema che è un 15mm 10mm mass battle lui ha scritto il sistema mi servirebbe qualcuno che mi aiuti per playtestare il sistema e quindi anche per playtestare che mi faccia tutti gli army list perché sapeva che i miei numeri le stats erano al mio forte e quindi mi fa se tu mi scrivi le army list e poi le playtest giochiamo assieme faccio e poi per playtestare mi devi preparare gli eserciti fisici lui ovviamente è il direttore galattico io preparami tutti gli eserci per playtestare certo sì 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 e dopo qualche giorno gli faccio pronti gli esercici sono pronti per playtestare come sono pronti te l'ho detto pronti tutti pronti arrivo ma fammeli vedere faccio tutto pronto guarda gli faccio vedere il tavolo con tutti gli eserci schierati è rimasto così perché lui intendeva eserci metti le basette metti le miniature dipingi fai conversione gli invece ho fatto ho stampato in 2D tutti gli eserci prendete con le basette della dimensione giusta però solo a 2D con incollati colori quei simboli tipo wargame quindi la cavalleria con il simbolo così la panteria con il simbolo così le stats e tutto questi hanno la stessa pianta occupano lo stesso spazio dei pezzi così tutto a posto abbiamo tutto pronto possiamo playtestare tutto è rimasto di sasso veramente non è quello che ho in mente però vabbè ok ormai playtestiamo io appunto sono meno hobbysta come dicevo prima anche perché effettivamente dipingere le miniature di warmaster deve essere una cosa terribile non so come si faccia anch'io però deve essere scenicamente anche visivamente deve essere molto figo deve essere questa marea di veramente di un'armata scusami tolgo un attimo la camiglione che sto prego prego non c'è problema il bello della diretta il bello della diretta mettiamo una musichetta quella degli ascensori esatto la musica d'ascensore ok siamo giunti praticamente alla fase 3 quindi post games workshop nel 2010 tu fondi river horse game ma nello stesso periodo prima di parlare di river horse che è la fase 4 hai praticamente collaborato e lavorato anche a due progetti che sono tutt'oggi due giochi famosissimi kings of war e bolt action possiamo dire che mantic mantic e warlord sono stati i primi clienti di river horse senza dubbio entrambi quando ho smesso di lavorare per la games workshop ci sono non è che potresti fare questo gioco entrambi probabilmente avrebbero voluto senza probabilmente avrebbero voluto arruolarci farmi lavorare come game designer per le loro ditte e io invece ho resistito a questa tentazione che è molto forte ovviamente perché ho un socio italiano che è un investitore seriale così che mi fa no devi essere il padrone stesso la ditta devi essere tu gli fai un servizio certo gli veniamo assolutamente però no non come impiegato come contratto con un'altra ditta 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 insomma Alberto questo amico ha insistito amico socio e mentore se vuoi dall'imprenditoria mi ha insistito ma io veramente la ma non so sai la la sicurezza lavorativa lui mi fa quanti anni hai lavorato alla games workshop 15 e adesso lavori per la games workshop no e allora è quello che adesso è un mental coach sicurezza lavorativa cosa va bene ok proviamo e quindi quindi abbiamo abbiamo fatto come appunto come diceva come contratto e sono stati i primi lavori come contratto perché di nuovo la riverossa è nata per fare giochi di proprietà e alla fine ha fatto servizi per altre ditte ha fatto giochi su licenza abbiamo anche fatto dei giochi nostri ma è sempre come nel caso dell'intervista delle domande il nessun piano sopravvive a contatto col nemico no uno si adatta e come è stato lavorare con Mantic e con Warlord allora Warlord collaboro sempre diciamo che sto seguendo Bolt Action da quando l'ho scritto tanti anni fa ormai nel 2010 appunto 2011 parecchi anni più di 10 anni che seguo Bolt Action quindi prima edizione seconda edizione ovviamente si continua a fare sviluppo continuo a seguire gli altri libri che escono a fare di editore sostanzialmente il ruolo di editore delle regole se vuoi con tutti questi libri che escono i supplementi continuiamo a sviluppare nuove edizioni prima o poi uscirà anche la terza insomma è un lavoro che continua da 10 anni ci troviamo bene lavoriamo bene assieme abbiamo fatto altre cose assieme come per esempio di recentemente abbiamo fatto un gioco che si chiama Combined Arms che sostanzialmente scusa non ricordo perché ogni tanto abbiamo fatto come lo chiamiamo il gioco 10 nomi poi alla fine quello che passa è quello però tu non dici qual è che abbiamo deciso quello lì quello là Combined Arms e quindi era che sostanzialmente è come non so se ricordate Mighty Empires qualcosina forse un gioco un gioco che se ne trovate una copia ve lo raccomando è un gioco vecchio della Games Workshop che era sostanzialmente una campagna che tu potevi giocare come board game sì ora me lo ricordo anche io me lo ricordo potevi quando gli esercici si incontravano per combattere invece di tirare un dado per risolvere potevi prendere e fare una battaglia di Warhammer per risolvere quello scontro e quindi era un sistema di campagna e un board game e quindi abbiamo fatto la stessa cosa con Bolt Action con Bolt Action più quel gioco con gli aerei e il gioco con le navi e quindi Cruel Seas e Blood Red Skies e quindi è un aeronavale campagna per la seconda quindi progetti con la Warlord lavoriamo molto lavoriamo bene assieme siamo sono diventato abbastanza amico sia ovviamente di Rick che adesso è uno dei soci della Warlord ma anche di John Stallard che è un è il socio principale il proprietario se vuoi che era un mega direttore della Games Workshop perché comunque a Nottingham molte delle ditte la Mantic la River Horse infatti era una nostra domanda come mai esatto cosa succede cosa c'è nell'acqua in Nottingham e no è come Silicon Valley c'è la Microsoft che è la Games Workshop e poi ci sono tutte le altre di quelli che hanno lavorato lì un certo numero di anni e poi sono usciti e si sono fatti la loro ditta quindi è creata la lì c'è la Silicon Valley e qui c'è la Lead Valley come la chiamano la valle del piombo perché se lo vede il soldatino insomma no dai Minasur Valley la schiavano la chiamano un Lead Valley no no non stavo chiamando o Lead Belt a volte invece della Iron Belt comunque anche perché ormai piombo non c'è più nel miniatura però tradizionalmente e quindi sì con la Warlord abbiamo collaborato sempre a lungo con la Mantic abbiamo lavorato la prima seconda edizione di Kings of War poi per diciamo differenze creative loro hanno dato un po' di più responsabilità alla community e a quel punto c'è stato un po' forse un ma io preferivo avere più responsabilità sui sistemi di gioco però ovviamente la Mantic ha un sistema di business che è basato molto sul Kickstarter e sulla community quindi ovviamente ha senso quello che stanno facendo per il loro modello di business se vuoi quelle più community led diciamo condotte della community mentre magari Warlord è rimasto un po' più tradizionale un po' più designer led dove il gioco viene un po' deciso dai designer invece che dalla community e entrambe le cose hanno vantaggi e vantaggi non vorrei entrare nella discussione di quelle cose comunque quello vuol dire che ho smesso di lavorare su Kings of War della terza edizione però in realtà continuiamo a lavorare con la Mantic perché comunque con Ronnie col padrone della Mantic ci troviamo bene siamo amici eccetera quindi non è che non abbiamo litigato niente semplicemente non lavoro su Kings of War però invece abbiamo lavorato su parecchi come River Horse gli abbiamo fatto parecchi giochi come contratto gli abbiamo fatto il gioco su Umbrella Academy gli abbiamo fatto un altro gioco di cui non posso ancora dirvi perché non è ancora uscito abbiamo collaborato spesso stiamo parlando appunto di altre collaborazioni quindi abbiamo fatto LOCA insieme come joint venture quindi questo network di gente funziona post-Games War è stato difficile creare parliamo di Kings of War velocemente è stato difficile cercare di creare un prodotto tendenzialmente diverso rispetto al fantasy di Games Workshop sia a livello di regole che comunque erano già state proposte sia a livello di proprietà intellettuale senza entrare nei campi cioè stando attenti beh diciamo che le regole è stata una sfida se vuoi perché mi ricordo i discorsi iniziali con Ronnie dove lui mi ha detto mi piacerebbe un nuovo fantasy battle volevo fare un fantasy battle per fare concorrenza alla Games Workshop eccetera eccetera quindi vicino ma non troppo vicino come IP bla 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 però come le regole devono essere diversissime devono essere un sistema unico non devono essere una copia di Warhammer eccetera eccetera quindi faccio ok e gli ho detto ci ho pensato poi gli ho fatto una parola e gli ho detto va bene ti faccio un sistema di regole per wargame di otto pagine A5 formato A5 e mi fa scusa non c'è bisogno di fare un regolamento da 40 50 80 pagine bastano 5 pagine otto pagine non era convinto sì no sì no io l'ho scritto io l'ho messo lì lo prendono lo gioca con i suoi con i suoi suoi staff un po' mi richiamo e fa ma sai quanto c'è di queste otto pagine abbiamo detto vabbè non ci avrà voglia farà una cosina che useremo come introduzione poi lo faremo scrivere a qualcun altro gli faremo scrivere una cosa proprio vero e proprio questo sarà un introduzione invece fa ci abbiamo giocato ma funziona ci giochiamo e gli faccio stavo pigliendo per il culo ti giuro le otto pagine bastano ma è vero ma è incredibile cioè eh vedi questo tendenzialmente è stata la cosa contraria quando è uscita Age of Sigmar Age of Sigmar era uscita con tre fogli e poi c'è stato un casino una rivoluzione che tutti tutta la fanbase esplosa e sono dovuto penso correre a ripari e scrivere manuali più lunghi invece per Kings of War ha funzionato queste tre fogli sono sì diciamo che la primissima elezione di Age of Sigmar era veramente eccessivamente smilza obiettivamente adesso non ho raggiunto credo un equilibrio accettabile e comunque non è nulla di paragonabile rispetto a Warhammer Fantasy perché sto rileggendo i vecchi manuali e cioè quattro pagine sono ogni singola fase ti posso fare una domanda che non non c'eravamo detti cosa mi pensi di Age of Sigmar non ci ho mai giocato ok io ti giuro dal 2010 non ho più toccato un gioco Games Workshop non perché non voglia ma perché non ho tempo certo mi sarebbe piaciuto continuare a giocare a 40.000 per esempio ho venduto ho regalato un certo numero dei miei eserciti ho ottenuto forse quelli con cui sono più affezionato tipo gli Skalven però ho ottenuto gli Eldar per 40.000 gli Skalven per Fantasy e un misto per il Signore degli Anelli e un po' di tutto la cosa in realtà non ho mai ovviamente poi vorremmo com'era per il mio esercito di Skalven è morto quindi quello di Skalven lo posso usare solo nei tornei della gente che li fa facciamo la stessa edizione viene a giocare allora sì ma 40.000 di nuovo mi piacerebbe giocare a me piace molto il background di 40.000 il mio esercito di Eldar di BLTAN una cosa che mi piace moltissimo gioco al gioco Battle Sector quello su computer cioè l'IP mi piace molto la storia mi piace molto il gioco mi piaceva molto avessi voglia tempo conoscessi la gente che va a giocare lo farei però invece la mia vita adesso avendo famiglia avendo la ditta che come tutti gli imprenditori non smetti mai di lavorare esatto poi hai appunto figlia moglie una vita così devi scegliere cosa giocare enormemente quello che gioco sono cose su cui sto lavorando perché ho bisogno di fare un po' più di playtesting e quindi va a finire che gioco sempre quello su cui stiamo lavorando fondamentalmente l'eccezione se vuoi forse bolt action che ogni tanto riesco ad andare a un torneo dove mi massacrano alla grande ovviamente però però almeno mi gusta un po' quell'atmosfera torneistica che era la cosa che mi piaceva ai tempi ero un po' giocatore più cattivello ecco forse meno adesso sono più vecchio ho perso l'occhio della tigra esatto tra l'altro a proposito parlando di bolt action come è stato invece il passaggio dal fantasy allo storico interessante interessante c'è una storia buffa di quando mi hanno invitato a fare questo regolamento e io gli ho detto ma guardate ragazzi che io c'è una guerra mondiale un po' la conosco certo soprattutto il settore nord africano dove mio nonno mio zio hanno combattuto e quindi mi hanno raccontato delle cose quindi per me quel settore lì forse è il mio settore dove conosco di più e dove tutto sommato quel settore lì ha un po' la fama di essere un settore di guerra tra gran tuomini dove sostanzialmente si prendevano i prigionieri non si ammazzavano a vista una guerra senza odio la definiscono nel senso che si prendono i prigionieri non ci si ammazza se non ci si deve ammazzare queste cose qui insomma comunque questo settore era il mio favorito per questioni di nonno e zio che si sono fatti avanti e indietro su quella strada in eterno la strada costiera del nord Africa e quindi gli ho detto comunque io non sono un esperto cioè ti posso scrivere un gioco però la parte più storica ce la dovete mettere voi devo lavorare insieme a qualcuno che conosce più i dettagli storici eccetera non sono un esperto di non ti so distinguere una Sherman 4 da una Sherman 4A B M2 e gli fanno va bene ovviamente questo supporto ce lo facciamo abbiamo lavorato con Paul Sawyer con John Stallar con Rick che insomma conoscono e la cosa buffissima è stata andare alla Osprey per esempio quelli che fanno i giochi i libri storici eccetera facciamo il pitch al board della Osprey questo foto super fighissimo nel sud dell'Inghilterra dove Alessio vieni anche tu gli presenti il tuo piano per il gioco io mi sono seduto a questo megatavolo con la gente del Warlord che mi fanno allora dici parliamo al nostro game designer che vi dirà il piano io ho cominciato io non sono un esperto della seconda guerra mondiale ma a quel punto vedo il capo del Warlord che fa è quello che dovevo dire no sono un game designer io sono lì per il gioco comunque è stato per fare lo storico perché ovviamente è diverso non hai tutta la libertà di fare tutto quello che vuoi non puoi inventarti le cose devi uno rimanere fedele ai dettagli della storia e fortunatamente con Bolt Action l'ho fatto abbastanza semplice quindi non c'è troppo dettaglio intenzionalmente l'altra cosa penso sono anche delle sensibilità ancora che bisogna fare attenzione non si può ovviamente c'è gente che forse c'è ancora qualcuno che ci ha combattuto o comunque gente che ha avuto parenti che ci hanno combattuto e quindi non è una cosa che uno possa devi stare attento presenti certe cose eccetera la cosa più buffa lì è sempre scrivere regole speciali per i vari eserciti perché ovviamente io volevo chiederti se hai avuto un occhio di riguardo per l'esercito italiano Paolo mi ha scritto non dico non faccio io questa domanda l'esercito italiano era uno dei più difficili perché ovviamente la reputazione dell'esercito italiano nella seconda guerra mondiale è pessima non è che ci siano grandi cose positive che si dicano nella seconda guerra mondiale ci sono dei reparti che hanno una fama di essere dei buoni che erano dei buoni reparti la Folgore i paracadutisti eccetera i bersaglieri ma l'esercito normale non aveva una grande nomea l'artiglieria ottima artiglieria eccetera ma invece la truppa normale demotivata mal equipaggiata equipaggiata per la prima guerra mondiale invece che per la seconda con le scarpe da ginnastica non stiamo comandando non stiamo combattendo la prima guerra mondiale no no quindi impreparati e anche non ben motivati mal comandati ci sono tutti questi stereotipi che vengono anche abbastanza pesanti lavorare in Inghilterra dove ti fanno delle battute anche abbastanza cattivelle particolarmente perché la warlord ai tempi stiamo parlando di venti quanti anni fa no dieci anni fa comunque il politically correct non era proprio la cosa più così quindi le battute sui carriarmati italiani che hanno più marcia indietro che marcia avanti e tutte queste cose qui no allora vabbè però dai e comunque la cosa difficile è stato trovare delle cose positive da dire sull'esercizio italiano in generale come regole generali no perché sui reparti riesci a farlo ok la folga ne la facciamo delì assolutamente però le regole generali uno cerca e con Bolt Action abbiamo fatto tante cose che erano un po' tipo film no quindi si va un po' sugli stereotipi di Hollywood delle varie cose quindi non so i tedeschi molto efficienti i giapponesi spazzi suicidi gli americani che sparano tutto quello che si muove amici nemici spara tutti con le vari gli stereotipi Hollywoodiani sull'italiani leggevo questa ho fatto delle ricerche per cercare degli spin positivi sull'esercizio italiano una delle cose che ho trovato bellissima che mi ha fatto ridere tantissimo è questo libro che ho letto che è un acconto sulla campagna d'Africa dove per tutto il libro si parla sempre negativamente degli italiani e qui se ne arrendono 300.000 e qui invece se ne arrendono 200.000 e qui invece se ne arrendono 200.000 e qui vediamo gli inglesi con i loro 20 carri armati contro i 40 carri armati dell'asse per fortuna 30 erano carri armati italiani quindi vinciamo alla fine arriva però alla fine questo ufficiale che scriveva il libro viene portato in un bordello a Tripoli dove sostanzialmente ci sono le ragazze del bordello che si fanno uno show per gli ufficiali dopo la guerra dove rappresentano che tipo di amatori erano i vari perché lì sono passati tutti i francesi gli americani gli inglesi i tedeschi facevano allora qui come chi sono gli amatori migliori i tedeschi sono i peggiori poi questi poi gli americani poi invece i francesi allora gli inglesi lo fanno così gli americani lo fanno così in questo ufficiale ma non avete mai nominato gli italiani come mai la risposta parlavamo dei clienti non dei nostri amanti o almeno qualche dote ce l'abbiamo anche noi dai forse le regole esatto in bolt action le cose che trovi sono gli amatori migliori i cuochi migliori catturiamo gli italiani per farli cucinare e quindi è difficile dare degli spin positivi a un esercito che nella guerra mondiale aveva un equipaggiamento orrendo una motivazione eccetera quindi devi anche con i francesi voglio dire la performance dire e lì cominciano le battute cattivissime l'esercito francese si arrende al secondo turno qualunque partita di bolt action gli italiani cambiano e vengono la tua parte queste cose qui vengono fuori le cose super cattive poi ovviamente si può fare delle battute molto poco politically correct è comunque è stato difficile è stato difficile gli oresi una risposta seria gli oresi più forte in difesa che in attacco perché di nuovo è un fatto il buon vecchio catenaccio a difendere il catenaccio calcistico a difendere le posizioni fisse è sicuramente meglio che nella guerra dinamica di movimento anche perché non avendo mezzi di trasporto è difficile fare la guerra dinamica e quindi impegnativo e fare che comunque i bolt action gli italiani siano quelli che forse hanno le regole che sono state ricevute peggio dal pubblico forse è anche colpa mia a non voler cercare di farli troppo forti per poter poi invece avere paura di essere accusato di averli fatto troppo forti e quindi mi sono forse tenuto troppo in questo senso per dire oh non vorrei mai che mi dicessero e guarda hai fatto gli italiani troppo forti c'è anche quello forse una comporrente psicologica del dire non posso fare gli italiani come gli scaven di non potevano andare con una campana stridente e quindi comunque è difficile penso che puoi capire come sia difficile fare regole generali così per la seconda guerra mondiale certo allora io direi passare alla fase 4 quindi la fondazione di River Horse siamo quasi giunti alla fine nel 2010 come detto fondi la tua azienda River Horse con sede a Nottingham specializzata in board games ma anche giochi generali e in realtà offri tutti una serie di servizi mica male perché ce li siamo andati a vedere sul sito come regole per conto terzi traduzioni di regolamenti esistenti supporto tecnico insomma tante tante cose come sei arrivato ad aprire la tua azienda perché non hai preferito continuare a lavorare per altri ce l'hai un po' già detto praticamente Alberto la risposta è Alberto Alberto hai mai avuto ripensamenti momenti di sconforto momenti in cui hai pensato no ho fatto una scemata cosa ho fatto un giorno sì un giorno no come tutti gli imprenditori quindi questo possiamo andare via diretto prego Paolo fai tu qualche domanda allora all'inizio avete puntato molto su giochi senza nome come Shuro Locke a Waterloo eccetera eccetera poi siete passati invece agli licenze con proprietà un po' più un po' più pesanti hai citato anche tu prima Umbrella Academy Terminator Pacific Rim Hunger Games è stato un caso è stata una scelta editoriale voluta l'insieme delle due magari è stato un abbiamo visto in realtà che l'esperienza del signore degli anelli alla Games Workshop era io che ho vissuto come dei lead designer mi ha dato l'esperienza di come si lavora su giochi così per licenza è ovviamente della forza che hanno i giochi per licenza perché ovviamente parti già con una una audience più grande e quindi hai più dei volumi più alti ovviamente in termini di investimento è una cosa importante e ovviamente paghi per questi volumi più grandi perché devi pagare le royalties le licenze e e quindi Terminator perché in quel momento veniva fuori il Terminator Genesis il 5 che era sicuramente il film che avrebbe rivoluzionato riportato il Terminator alle glorie del primo e del secondo come dicono ogni volta che fanno il Terminator è sempre quello e però il discorso per me di fare la fare la guerra contro le macchine quegli spezzoni di cui si vede pochissimo ma c'è un gioco così tutto ambientato in quella in quella signature skirmish fantastico scientifico è stato un sistema che è stato ricevuto molto bene sfortunatamente il film invece no il film è stato un floppone totale il Terminator Genesis continua su Facebook continuano a giocarci c'è il giochino così noi non lo supportiamo più però non si può mai dire mai sarebbe interessante continuarlo abbiamo proseguito molte licenze come dici tu abbiamo fatto Highlander abbiamo fatto Hunger Games abbiamo fatto tutta roba degli anni 80 o comunque 90 gente che mi piaceva talmente roba che aveva un valore emotivo ed effettivamente la relazione di licensing più forte che abbiamo tuttora di gran lunga è una cosa che non avete menzionato ma è la Pony My Little Pony no quello è il secondo quella è la seconda in ordine di grandezza la Jim Henson quindi Labyrinth Dark Crystal quei due film lì gloriosi della mia gioventù la relazione con Jim Henson è stata con la Jim Henson Company non Jim Henson in persona che è morto qualche anno fa però il il gioco di Labyrinth il board game di Labyrinth che ho fatto design io è il nostro prodotto che vende di più per un fattore di 10 cioè una cosa è quello che assolutamente è l'unico motivo per cui la Rivalos continua ma andare avanti dopo 12 anni è quel gioco lì quindi il gioco di Labyrinth e comunque tutti i giochi seguenti il gioco di ruolo di Labyrinth ha un buon successo tuttora di un sistema di gioco di ruolo molto particolare molto diverso dalla norma se volete poi ne parliamo ma comunque quello e poi dopo sempre sulla storia dei giochi di ruolo invece abbiamo fatto il gioco di ruolo di My Little Pony perché mia figlia era piccolina me l'ha fatto scoprire io mi ricordavo quelli degli anni 80 che è una cosa che proprio invece questa serie nuova non so se l'avete mai vista quella Friendship is Magic è fantasy è come guardare Dungeons & Dragons con i pony quindi divertente per bambini però bella guardabile godibile anche per un adulto nel senso che ci sono molti livelli è fatto molto bene vi do un esempio non lo so c'è una scena in cui la protagonista Twilight Sparkle guarda stanno combattendo contro le creature di neve e lei guarda in camera fa winter is coming l'inverno sta arrivando ovviamente il bambino non lo capisce però tutto fa guarda il trono di spada e niente quindi quello la Hanson e il My Little Pony sono le due linee forse più forti che abbiamo a livello di serie tv attuali su quale serie tv ti piacerebbe fare un gioco? attuali o recenti stiamo stiamo parlando con dei licenziatori abbastanza grossini su un paio di licenze su cose che potrebbero venire fuori però ovviamente non posso rivelare quello che stiamo facendo potrei parlare di cose di cui non stiamo facendo il gioco quindi ovviamente penso che di recente la risposta ovvia sia Rings of Power perché mi piacerebbe tornare Signore degli Anelli sarebbe bello però sono licenze un pochino costose immagino oltre il costo immagino che poi ci sia anche una certa pressione dal punto di vista del risultato nel senso che più l'IP è importante più il giudizio della community è spietato è preoccupante anche non lo so io avrei paura a mettere mani su alcune hai troppa paura d'altra parte però non c'è niente diciamo che è proprio una questione di costo in questo caso io non avrei sarebbe un onore sarebbe un piacere incredibile provare a fare un gioco su Signore degli Anelli ancora non ne avrei paura dal punto di vista creativo ne ho sicuramente paura dal punto di vista finanziario molto sono quei discorsi tipo abbiamo fatto una pitch una volta per fare un gioco sui Queen dove io sono un fan dei Queen mi sono piaciuto molto sono in Inghilterra andiamo andando a lavorare sono andato a trovare parlare con il loro management eccetera dobbiamo fare questo gioco una specie di tipo quiz oppure gioco party game con le cose tutte le cose di Queen guarda che bello la plancia con tutte le copertine si si parliamo ok centomila sterline per cominciare a parlare e come centomila sterline poi possiamo cominciare a parlare qui sull'unghio controllo il portafoglio l'ho lasciato in auto vado a prenderlo e torno sono dei rischi no dici non piccolissimi insomma come rischi rischiose quindi alla fine non è ancora non è ancora venuto niente stiamo negoziando allora quest'estate invece parliamo proprio del recentissimo presente è uscito il nuovissimo gioco che è Noli e abbiamo scoperto tra l'altro che tu ci vai spesso cosa ci dici di questo gioco e la trama sembra davvero molto bella italiana perché leggevo appunto che devi ci sono le diverse casate di rioni di di Noli che si danno battaglia per chi ha più lustro dici qualcosa è basato sulla storia di Noli io appunto come dici tu ci sono sempre andato fin da bambino da quando avevo un anno quindi tutta la vita sono stato a Noli ho la casa la casa di vacanza che è dove ha vissuto mio nonno e poi quando lui è mancato adesso l'ho ereditata quindi ho tantissime memorie ma mi sono anche molto interessato alla storia di Noli ed è una storia molto interessante è una storia la quinta repubblica marinara la relazione con Genova le crociate il fatto che le torri di cui ce ne erano 70 nel medioevo erano un'espressione della ricchezza dell'armatore che mandava le navi e poi si costruiva facevano la gara che aveva la torre più alta sostanzialmente per le questioni per dare l'obostra della loro opulenza e poi c'era la regata dei Rioni dove appunto facevano questa gara con i quattro colori i quattro Rioni che è perfetto per un gioco sempre non l'ha già fatto dove fanno la gara per chi il vincitore sceglie dove andare a pescare in quale zona del golf andare a pescare poi le incursioni dei Saraceni le incursioni dei Savonesi da una parte perché i Savonesi e i Finalesi erano Ghibellini io vado a finale tra l'altro mi spiace sei un nemico Ghibellino appunto mentre Genova e Noli erano Guelfe che hanno la croce sull'entrambe sulla bandiera e quindi c'erano questi attacchi via terra dei Savonesi e dei Finalesi di Genova che arrivava con le galee a salvare Noli quindi c'è molta storia e il gioco è basato su quella storia è semplice semplicissimo gioco per famiglie che spero che verrà giocato in spiaggia nelle case di vacanza così è una cosa interessante sempre è una cosa che ho notato ma magari sbaglio io questo è stato il primo gioco ad avere più traduzioni anche italiana o c'erano altri giochi precedenti con molte traduzioni nell'antichità abbiamo fatto altri giochi con multilingue tipo il gioco di carte di loca che abbiamo fatto con lo scarabeo che è una ditta italiana che fa tarocchi ne abbiamo fatto un regolamento multilingue se tieni regolamenti semplici è abbastanza relativamente semplice mettere delle regole infatti le regole di Noli stanno su due pagine quindi metti due pagine le abbiamo fatto in cinque lingue così in teoria si vende un po' di più in tutta Europa ma anche in tutto il mondo perché il nostro mercato maggiore sono gli Stati Uniti comunque quindi anche negli Stati Uniti avere lo spagnolo per esempio è utile e poi comunque per i turisti in Italia in teoria tutti i negozianti di Noli che questo me lo metti in negozio poi guardi le lingue dei vari turisti che vengono in vacanza i finalesi no però i finalesi no dicono i nemici i finalesi no i finalesi i finalesi no ok allora sempre rimanendo in tematiche contemporanee negli ultimi anni c'è stata quella cosina chiamata pandemia la covid c'è stata più recentemente una crisi energetica una guerra c'è stata anche la Brexit quindi tutte cose che hanno facilitato il lavoro del tutto il reparto ludico e immagino quindi anche della River Horse come sono stati questi ultimi anni da questo punto di vista allora ha cominciato col covid che ci ha visto quasi morire nel senso che c'è stato un periodo dove i distributori noi non vendiamo direttamente ai negozi la River Horse vende ai distributori che poi vendono ai negozi e poi abbiamo un piccolo web store piccolino che in realtà sarà 2-5% al massimo del fatturato quindi quando il distributore americano dove chi tiene tutto il nostro stock quindi immagina che tutto il mio stock tutti i miei giochi sono in un magazzino in America dove da lì partono gli ordini e vanno in tutta America Canada Messico eccetera e mi telefona il il distributore americano che fa dobbiamo chiudere quindi non potete più mandare ordini per chissà quanto non sappiamo quindi chiudiamo 70% del fatturato due giorni dopo mi telefona il distributore inglese che fa dobbiamo chiudere quindi il restante 30% del fatturato ti rimane il tuo web store così che però dove la ditta che fa quella che il magazzino dove non magazzino mi dice la niente magazzino sì magazzino warehouse sì sì giusto che fa il fulfillment degli ordini del web store anche noi purtroppo dobbiamo chiudere che fai come questa cosa della cassa integrazione aspetta mi informo signori tutti in cassa integrazione e stringere le cappe speriamo che non duri troppo perché se il governo toglie andiamo tutti a casa e lì che fai fai il tuo lockdown con la famiglia giochi a pallavolo in giardino e aspetti di vedere cosa succede e quindi c'è stato sì quel periodo dove dici oh come è stato il primo giorno come è stato il primo giorno che sei tornato a lavorare beh un casino perché seguito dopo questo parte invece il no adesso sì allora c'è domanda di nuovo perché si sta riaprendo tutto non ci sono i container la Cina è chiusa è tutta mezza chiusa i container sono tutti in America i cinesi non hanno più container quindi non possono devono aspettare che i container tornino un container di giochi che io faccio in Cina e spedisco in America cioè la fattura che mi arrivava per questo shipment 8000 9000 dollari per mandare un 40 40 piedi in container quelli grossi pieni pieni di giochi dopo nel dopo covid eccetera arriva la fattura dello stesso identico container 40 40 hc container che costava 8500 dollari la fattura 30.000 dollari porca misera triplicati non è che il board game non è che il board game abbia un margine una margine della vita della madonna e quindi sei lì hai i nostri volumi penso che se puoi se avrai monopoli è diverso ma i nostri giochini da hobby che non ne fai tantissimi cosa? e quindi questo è stato il problema dei materiali tra l'altro poi tutto costa molto di più il trasporto costa in più ci mette tantissimo per cui io spendo i miei centina decine di migliaia di dollari per comprare materiale e metterlo sulla nave ma una volta arrivava la nave scariciamo dal porto la settimana dopo erano i negozi cominciamo a girare adesso invece arriva il porto non abbiamo mano d'opera al porto è tutto chiuso non ci sono portuali non ci sono più non ci sono più questi europei che c'erano prima che lavoravano qui e c'è questa gente che veniva a lavorare qui in Inghilterra che svuotava i container non li abbiamo più e quindi sta nel porto un mese senza scaricare la nave perché non c'è il malo d'opera non c'è la gente e quindi tempi lunghissimi costi lunghissimi abbastanza un battaglio è stato duro e dura anche adesso ovviamente adesso poi ci metti la guerra è un periodo non facile certo ma d'altra parte non è facile non so se avete visto cosa è successo alla sterlina negli ultimi paio di giorni la sterlina è al livello più basso storicamente di sempre contro il dollaro praticamente il dollaro costa circa una sterlina era un dollaro e mezzo adesso una sterlina è un dollaro fortunatamente il nostro mercato più grande come vi dicevo sono gli Stati Uniti quindi la maggioranza dei soldi che entrano sono dollari fortunatamente la maggioranza dei soldi che escono sono dollari perché i cinesi si fanno pagare in dollari comunque è un periodo difficile come tutti penso agli imprenditori sei lì che dici difficile fare previsioni quanto dura la guerra cosa sarà la prossima andata del covid la gente non ha più soldi perché deve pagare le bollette spenderà nei giochi speriamo noi siamo lo zoccolo duro che continuiamo a spendere piuttosto non mangiamo ma giochiamo il flusso è costante giocate al freddo ma giocate esatto allora torniamo un po' più positivi non positivi al covid però un po' più positivi in generale il futuro di River Horse idee, giochi e pensieri abbiamo delle licenze molto molto belle che stiamo speriamo di riuscire a beccarle se tra un anno ricacciamo questa intervista spero proprio di potervi potervi raccontare la grande di queste altre licenze su cui stiamo lavorando questo potrebbe essere una bella cosa dal punto di vista invece di giochi non su licenza ne abbiamo cominciati a fare anche abbastanza abbiamo fatto Noli appunto e adesso stiamo lavorando su un gioco di ruolo sempre per famiglie sai che abbiamo fatto Tales of Equestria la storia di Equestria per My Little Pony adesso abbiamo fatto Tales of Primordia che è una storia di nostra creazione sostanzialmente dove i personaggi non sono pony ma sono dinosauri e quindi ci sono puoi giocare io gioco come Pterodattilo io gioco come T-Rex io gioco come Velociraptor io invece faccio lo Stegosauro eccetera io il Triceratopo eccetera 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 quindi i personaggi sono questi abbiamo creato la nostra ambientazione con un tema abbastanza ambientalista fondamentalmente nel senso che ci sono sti dinosauri che disperatamente cercano di sopravvivere all'avvento di questa razza cattivissima che siamo noi dum-dums questi cavernigli che bruciano tutto tagliano gli alberi eccetera eccetera e vogliono evocare questo dio che si chiama Big Rock o Bad Rock questa enorme cosa nel cielo che la vogliono attirare perché gli darà grande successo eccetera eccetera cercano di attirarlo verso il pianeta fantastico avete visto il film chiamato Don't Look Up sì 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 quello con di Capra praticamente questi tics che dicono facciamo il culto della roccia che ci verrà a salvare salvare no no volevamo concludere in modo positivo invece essenziale di massa quindi comunque è un nostro gioco di ruolo con un'ambientazione nostra quindi è un bel investimento perché ovviamente c'è molto lavoro di design speriamo che pagherà vedremo comunque il piano della Riverossa è di continuare a fare giochi su licenza con la Enson soprattutto che possiamo solo la carne da mettere in tavola il pane da mettere in tavola e riuscire a ricavare un po' di tempo per provare a fare roba nostra quindi buttare un po' di roba creata da noi anche magari un wargame digitale anche è una cosa che stiamo esplorando non so se avete visto su Pacific Rim di recente abbiamo fatto tutto su My Mini Factory abbiamo appena ieri abbiamo messo tutto su My Mini Factory quindi puoi scaricarti gli STL le regole tutto gratis cioè le regole sono gratis nel nostro website però paghi gli STL vogliamo provare questo discorso del wargame digitale stampato in 3D eccetera a tempo fa infatti avevo visto anche questo grosso progetto sicuramente conosci che è già da qualche anno che c'è che è One Page Rules in cui sono partiti puntando sulle regole ma ho visto che adesso anche loro stanno lavorando tanto sulla parte di STL quindi ti stampi a casa le miniature e quant'altro io come altro hobby ho anche la stampa 3D quindi comunque fanno anche delle miniature tra l'altro di un livello notevole mi piacerebbe sapere cosa pensi delle miniature di Pacific Rim sono beh noi abbiamo barato le miniature di Pacific Rim sono gli STL o comunque sono i file digitali che hanno usato per fare i CGI del film quindi ovviamente gli promettono bene parti diciamo che l'esterno è ottimo il mio scultore di fiducia Luigi Terzi mi dice che è stato un disastro riempirli perché sono vuoti perché non devono essere stampati i CGI e quindi devi riempire questi fasi lavorone so che voi appunto siete soprattutto appassionati di Wargame quindi cercavo dal punto di vista Wargame posso dirvi andate a vedere se non avete visto le regole di Terminator Genesys che sono disponibili di nuovo gratis c'è il sito su Facebook dove la gente gioca fa conversioni quindi pare che questo sistema di regole sia ancora molto popolare dopo tanti anni e poi c'è Pacific Rim che vuoi il vantaggio che ti stampi tre cose e puoi giocare poi se ti piace te le puoi stampare così però non hai bisogno di stamparti un milione di cose ti stampi tre cose e giochi quindi metto lì questa cosa fatemi sapere cosa ne pensate come Wargamist e 3D Quinter assolutamente assolutamente allora siamo arrivati alla fine allora ti facciamo magari un ultimo paio di domande dai così quali consigli daresti a un giovane aspirante game designer e cosa assolutamente da fare e non fare semplice sì è una domanda che mi hanno fatto molti che puoi immaginare normalmente la mia risposta è di cercare cambiare lavoro molti dicono voglio fare il game designer dov'è che trovo un lavoro per game designer non ce ne sono tanti di lavori game designer esiste e per carità non è impossibile che trovi una ditta che stia facendo pubblicità quindi se cerchi alla fantasy flight alla games workshop eccetera può essere che trovi il lavoro giusto però è molto raro e c'è molta domanda ovviamente quando questi ruoli vengono pubblicati il mio consiglio è se ti interessa il war game vai a lavorare per la games workshop non aspettare che venga il discorso il gioco il lavoro game designer prendi qualunque cosa cioè vai a lavorare in un negozio vai a lavorare in un magazzino fai qualunque cosa ovviamente di cui si è minimamente qualificato vai a prendere qualunque lavoro perché dall'interno una volta che sei dentro hai molte più probabilità di arrivare al lavoro di game designer perché cominci a cominci a nascere la gente cominci a farti conoscere cominci il networking è tutto come sapete come dicono in inglese it's not what you know it's who you know il networking è importantissimo e ovviamente se sei dentro la ditta dove vuoi arrivare a essere game designer è più facile arrivare al lavoro che vuoi dall'interno piuttosto che mando un curriculum dall'esterno e chissà che quindi questo è il mio consiglio se vuoi lavorare sui board game cerca di lavorare all'Asmo Day o alla Fantasy Flight a qualunque livello in qualunque cosa comincia fai la gavetta fatti il network interno questo è il mio consiglio bene direi buono Paolo allora vediamo un po' per non dilungarci troppo sì qualche progetto o prodotto non chiaramente su cui lavorato te che trovi particolarmente interessante o che ti ha colpito negli ultimi anni e quali sono le tue fonti di ispirazione che mi piaceva molto fumetti libri o film allora quale delle due prima quella che preferisci fonti di ispirazione ovviamente se ne ho cresciuto negli anni 80 sono come molti dei giochi che scelgo di fare sono basati su cose anni 80 quindi cose che mi siano piaciute quando ero ragazzino quindi sono cresciuto quindi mi piace l'animazione giapponese sicuramente molto ho sposato una donna giapponese d'altra parte sono molto giappofilo giappofilo mi ricordo infatti una tua foto col Gundam anch'io l'ho fatta davanti a Tokyo assolutamente quindi programma dell'animazione giapponese molto importante della cultura giapponese medievale anche fumetti Marvel sono un geek sono un nerd quindi se vuoi tutto il mondo nerd una cosa che a me in camera mia a Torino hai appunto Signore degli Anelli su una parete l'altra parete è Ghost in the Shell tutto Ghost in the Shell per tutto poster di Motoko da tutte le parti la storia devo dire di recente avendo lavorato su questi giochi lavorando con la Warlord sto anch'io passando in quella fase dove tutti i wargamers a un certo punto non tutti ma molti la maggioranza dei wargamers passano che passi dal fantasy alla santa scienza arrivi allo storico nella tardetà di tutti dello storico forse perché come facevo esempio nessuno ha mai in realtà fatto un'ultima resistenza contro i tiranidi eccetera e invece i carristi italiani si sono messi in queste scatolette di latta e sono andati a combattere contro gli Sherman con i loro carretti che sapevano che entravi lì dentro le possibilità di uscire vivi mi fa un pochino più spessa questa cosa che lo space marine col tiranide però sono cose che la storia il cavaliere medievale il legionario tutte queste cose storiche tendono a essere più non so avere un po' un che di più di verità di certo basi reali piuttosto che forse il certo quindi tantissime fonti comunque da qui attingere diciamo nel lavoro e Tolkien e Tolkien e Tolkien tra le tante bene tu Paolo altre domande? allora velocemente immagino che tu ti trovi bene dove sei non hai intenzione di ritornare nel bel paese nel tuo futuro vedi l'Italia nel tuo futuro se devo ascoltare mia moglie il mio futuro probabilmente sarà in Giappone ma poi diciamo appunto qui ho casa famiglia lavoro ditta quindi non è che ho decisamente devo dire che non posso lamentarmi quindi sto bene vengo in Italia per farmi le vacanze che avendo la casa al mare eccetera così quindi no ok non ho grossi piani previsti di cambiamenti radicali poi vabbè la vita come sappiamo come dicono qui è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare piani verissimo mai più più cosa vera quindi insomma rimandi lì giustamente sì sì ti dico non ti abbiamo convinto penso che realisticamente il Giappone sia forse il posto dove finirò prima o poi come si dice River Horse in giapponese aprirai la tua ditta sai perché River Horse si chiama River Horse perché Kaba in giapponese vuol dire ippopotamo Kaba Tore Kaba Tore in giapponese suona come acchiappa l'ippopotamo o caccia l'ippopotamo o cacciatore di ippopotami quindi Kaba i due simboli che formano la parola il kanji di Kaba sono uno è cavallo e l'altro è fiume insieme diventano Kaba come ippopotamo greco hippopotamos cavallo del fiume ho visto questa cosa avendo fatto greco al classico il mio cognome come chiamiamo la ditta Kaba Tore Kaba River Horse River Horse quindi è per questo che il simbolo è un ippopotamo è un cavaliere su un ippopotamo questo è fantastico non lo sapevamo niente direi che con questa chicca concludiamo il tutto adesso veramente grazie mille è stata una figata pazzesca ci hai detto tantissime cose pensare che 21 anni fa prendevamo WhiteDarf con le tue interviste e adesso siamo qua a intervistarti oh per me è un piccolo traguardo anche per noi quindi mamma mia mi sento vecchio niente questo era tutto quello che avevamo da dirvi grazie ancora Alessio ci vediamo alla prossima grazie a voi io sono Riccardo Paolo Caosinsuor Italia e ci vediamo alla prossima grazie a tutti